Io penso che dal primo minuto siamo partiti bene, eravamo dentro la partita, abbiamo distribuito bene palla, abbiamo avuto anche qualche occasione, ricordo la palla di Carnevale, poi anche qualche conclusione al limite dell'area ribattuta, però abbiamo fatto noi la partita. Loro il primo tempo, a parte dopo un minuto che hanno fatto un tiro da fuori aria, poi non hanno fatto nient'altro, secondo tempo siamo partiti con una marcia in più, loro facevano più fase di attesa, ci lasciavano il palleggio, è arrivato il gol e poi dopo è cambiata un po' la partita, loro hanno messo tutti gli effettivi davanti, ci hanno un po' schiacciato nella nostra metà campo, però non l'abbiamo gestita bene. Quando sono importanti questi tre punti per voi? Sono importantissimi perché ci danno morale, ci danno fiducia, noi purtroppo abbiamo raccolto molto meno di quello che abbiamo sempre fatto durante il campionato, quindi quando poi si ha una squadra molto giovane si corre il rischio di deprimersi, quindi questi tre punti ci danno grande fiducia per il proseguo del campionato. Abbiamo avuto tante difficoltà in questa settimana con tanti giocatori fuori, qualcuno recuperato all'ultimo che si è reso disponibile. Sapevamo che oggi avremmo fatto fatica perché è inevitabile che sarebbe stato così e questo non giustifica e non è assolutamente un alibi per una sconfitta che è in parte figlia e delle difficoltà avute in settimane e parte i figli anche del fatto che per la seconda volta consecutiva abbiamo giocato uno scontro diretto senza sapere di farlo. Il girone di ritorno di questo campionato è completamente diverso da quello dell'andata, la stagione scorsa ce l'ho insegnato, ancora facciamo fatica un po' a entrare in questa dimensione e stiamo perdendo partite così come noi di solito le vinciamo, cioè con attenzione, con cura di dettagli, con personalità e con grande spirito di squadra. Questo è un momento di difficoltà e ce lo dobbiamo dire senza vergognarsi, non è tanto la sconfitta, è un po' l'atteggiamento che ci ha caratterizzato in tutti questi anni che in questo momento sta mancando e noi abbiamo il dovere e l'obbligo di ritrovarlo perché rappresentiamo una società e una squadra alla quale vogliamo tutti molto bene e che si merita prestazioni diverse, poi le sconfitte, le vittorie sappiamo che sono figlie di tante altre cose però noi sappiamo essere diversi e oggi non lo siamo stati.